Musica Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, siete sul canale 17, questa è la rassegna stampa di oggi. Oggi è lunedì e si ricomincia la settimana, una settimana comunque calda, con temperature elevate, c'è qualche nuvoletta, lo vedremo tra poco nelle previsioni del tempo, anzi cerchiamo di vederle subito, anche se questa mattina il sito, eccolo qua, non ce l'abbiamo. Benissimo, allora andiamo il santo del giorno, prima il santo del giorno vediamo con la grafica, oggi è Santa Andrea di Creta, stiamo parlando di un uomo, di un vescovo che è nato nel 660 a Damasco. Il sole è sorto alle 5 e mezzo e tramonterà alle 20 e 54. Dicevo, guardiamo un attimo il tempo per oggi, oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso, con brevi e isolati piovaschi, nel pomeriggio limitatamente ai Sibillini, le temperature sono in diminuzione. Per la giornata di domani, martedì 5 luglio, cielo sereno o poco nuvoloso. A meno fino a venerdì avremo tempo sulle marche che tenderà ad essere sostanzialmente soleggiato, ma con possibili episodi di instabilità pomeridiana, specie nella giornata di mercoledì. Adesso andiamo a leggere i giornali, la rassegna stampa comincia con il messaggero, due vie per Anna Maria e Sandra, sono due vie che verranno intitolate, una alla skipper, Anna Maria Curina, che è stata barbaramente uccisa, se ne discuterà oggi pomeriggio alle 15 nel Consiglio Comunale di Pesaro. E poi c'è appunto, se vogliono ricordare, la skipper e la fondatrice del Centro Italiano Femminile. In Consiglio Comunale arriva questo documento per intitolare queste strade a Curina e Barbara Modaini. Poi a centro pagina, la fotografia di due giocatori, un colpo doppio per la squadra di basket della VL, l'americano di passaporto ungherese Jones, il nuovo pivò della VL che nel frattempo ha anche trovato l'accordo con l'ala lituana. E poi da Villa San Bartolo a Villa Ceccolini, il comune di Pesaro Asfalta, prosegue il programma dei lavori anche nella zona del mare e in centro storico. Sempre nella prima pagina del messaggero, l'arte contemporanea al conventino dei Servi di Monte Ciccardo, nell'antico chiostro cinquecentesco, trovano ospitalità le opere di ben 44 artisti del territorio, tra cui questa che vedete pubblicata sul messaggero di questa mattina, un'opera del fanese Pierluigi Piccinetti. E poi il messaggero, il messaggero che si fonde con il Corriere Adriatico, un messaggero più ricco e completo nelle marche, il messaggero riconosciuto punto di riferimento dell'informazione nelle marche, da mercoledì 6 luglio sarà in edicola insieme con il Corriere Adriatico, un progetto editoriale innovativo che garantirà una copertura informativa più ricca e completa. E adesso le altre pagine, sciopero e corteo all'Azimut Benetti, parliamo di nautica e di nautica purtroppo in crisi, non si ferma l'agitazione dei lavoratori del cantiere fanese, organizzata per questa mattina due ore di ulteriore mobilitazione, dalle 8 alle 10. Ucchielli, Palmieri Ucchielli, se mi vogliono a Roma sono pronto, il sindaco di Vallefoglia manda un messaggio ai suoi democrat con me, alla guida il PD ha sempre vinto. Certo sono finanzato, dice Ucchielli, con Vallefoglia, ma posso dare un po' di consigli e qualche suggerimento utile per invertire la rotta, e lo dice sorridendo Beffardo. E adesso il Corriere Adriatico. Dalla pagina di Senigallia, i ragazzi terribili guastano la festa, danneggiano gli ombrelloni, gettano i lettini in mare e tirano sedie ad un uomo. Si aprono riflessioni dunque sulla lunga serata non troppo gettonata, complice forse l'Italia che ha giocato e che, come ben sapete, ha perso i rigori. Si finge cliente e ruba costumi all'ambulante a denunciare il fatto un vicino di Lettino, siamo sempre a Senigallia, ha un bagnante sfilato il portafoglio mentre passeggiava sulla battigia. Lasciamo la cronaca di Senigallia e apriamo la pagina di Pesaro. La lotta agli abusivi inizia dalla stazione, sono parole del comandante della Polizia Municipale di Pesaro. 11 sequestri di merce effettuate in spiaggia, ma l'obiettivo è bloccare i carichi in arrivo. E adesso la pagina di Fano, sorpresa, ai canadesi piace pedalare a Lido, la città tappezzata di indicazioni di un tour operator. Fano è stata inserita nel giro Ravenna-Monte Cassino. Capoccia dice che l'interesse degli stranieri dimostra come sia indispensabile completare la ciclabile adriatica. Nell'ambito del tracciato la Fano-Senigallia rappresenta un tratto fondamentale. La delusione calcistica, quella dell'Italia, affossa i saldi, doveva essere la notte degli sconti, ma poca gente ha avuto voglia di fare shopping, di spendere soldi. Pensate, delusione calcistica. La serata verrà ripetuta. E sotto invece con Vagnini l'Invisibile diventa un disco. Luca Vagnini ha inciso un altro disco. Il cantautore fanese ha scelto, dice, nuovi arrangiamenti a una musica libera. Poi c'è un corso di formazione missionaria. Sono 55 ai giovani che avranno la possibilità di prendere parte a questo campo di lavoro e formazione missionaria. 2016 organizzato dal centro diocesano. Dal 10 al 16 di luglio i ragazzi che sono provenienti da tantissime parrocchie della diocesi, guidati da animatori e sacerdoti missionari, avranno questo momento, questa esperienza ecclesiale di fede e condivisione. L'altra pagina del Corriere Adriatico è quella qua, da Pesaro e Provincia. Andiamo a Tavernelle dove il bacino è stato prosciugato. Il bacino di Tavernelle è l'intervento per liberare l'invaso da Fanghi e Ghiaia. Il serbatoio di Serungarina è una riserva idrica di fondamentale importanza contro la siccità. Il resto del Carlino invece, l'apertura è per la rivolta contro la CIAE. Racconta il giornale di questa mattina un episodio che è capitato a un DJ, tra l'altro esodato, di un locale del mare, successo a Pesaro, che è stato sanzionato per aver copiato dei dischi. I clienti insorgono e prendono le sue difese e la questione di musica e diritti d'autore è dunque sempre più al centro delle proteste di molti esercizi pubblici. Entriamo nella pagina del resto del Carlino. Eccolo qua. Trattato, dice lui, come un bandito, ma facevo soltanto il DJ. E lui si difende, dice, i dischi li copio solo per non rovinare quelli originali. Alcuni sono vinili, altri sono ricordi. Insomma, durante la Notte Rosa, tra venerdì e sabato, alcuni addetti della CIAE hanno svolto dei controlli, sia a Pesaro che a Fano. Nei locali per l'occasione avevano organizzato l'intrattenimento. E quando hanno controllato questo locale, la suite, sul lungomare Nazario Sauro, è capitato che è stato multato questo Eraldo Temperini di 63 anni. La CIAE gli ha sequestrato 250 dischi e i clienti lo hanno difeso. Questo è l'articolo e questo invece è il DJ Eraldo Temperini con il verbale della CIAE in mano. La pagina di Pesaro per la festa del porto, ieri c'è stata la festa del porto a Pesaro, con il lancio della corona dall'oro in mare per ricordare i caduti. Sindaco attento, dice il parroco Don Marco, il quartiere è sempre allerta. Poi parla anche dell'ex AMGA, che è un problema non del tutto risolto, e dice Don Marco, il nostro è un comitato vigile. Matteo Ricci era lì in prima fila, lì vicino, con la fascia tricolore addosso, ha sorriso, ha anche applaudito, insomma. E poi Don Marco ha anche ricordato Angelo Capuzzimato, gran brava persona, l'ha definita, che il 2 settembre però si trasferirà a Roma per altri importanti incarichi. Questa è la pagina di Pesaro, andiamo su quella di Fano e Urbino, Azimut Benetti, passi di rabbia, questa mattina a corteo dei lavoratori, mercoledì ci sarà un incontro dal sindaco, sotto invece gli animali del circo, il comune dà lo che, ma mette detta delle regole, il regolamento sarà votato dal Consiglio Comunale nella prossima seduta. Qualcuno aveva protestato per la presenza del circo, ma sono legalmente autorizzati, quindi nessuno può dire niente, però si può controllare che gli animali vengano tenuti bene. Sottomonta ancora multa e raffica, auto e motorini in sosta selvaggia, stessa sorte anche a Fano, dove ci sono state comunque delle proteste, le vetture sono state lasciate nei parcheggi dei motorini, riservati ai motorini. Poi Casa Pound replica al Partito Comunista Italiano e all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, noi ci diamo da fare per i poveri italiani. Vedete la fotografia, una parte dei generi alimentari radunati nella galleria dell'Ipercop da Casa Pound. L'ultima pagina del resto del Carlino racconta tutto quello che è successo la notte della festa del Porto, la notte brava del Porto, tra vomito, danni e ubriachi. Un ragazzo è finito persino in ospedale dopo una litigata, si è preso un casco in testa, le indagini sono della Polizia. In Piazzale della Libertà alcuni minorenni distese sulle discusse panchine mimavano rapporti sessuali, poi risate e fuga. Insomma, gioventù allo sbando. È tutto, grazie per averci seguito. Stasera ci vediamo alle 20.30 con il Telegiornale. Arrivederci. Stasera ci vediamo alle 20.30 con il Telegiornale.